Ma da dove scappo? Non c'è una rift? No Aspetta qua 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 Vieni di me Forse no Io non ho cura di vita Siamo una squadra Stiamo correndo insieme Vai moriremo tutte e due No Ci arriviamo Per Se c'era una macchina potevamo andare a volare Scivola ogni tanto Con CTRL Aspetta Si lo sa che costo è Che merda Ecco io ci sono arrivato Qua ci sono le cure No ho capito Qua ci sono le cure Ok Attenzione che c'è gente che spara Benchiata Ah c'è una piocina Siamo prendi di pesce La dobbiamo fare nella prossima partita E vedi che ho bussico La sotto C'è gente che spara Sono la sotto E poi ci facciamo anche l'abbraccio Sì l'abbè Sì l'abbè Non abbiamo capito le stelle No 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 Ma non ci spero Abbraccio l'abbraccio Io quando va avvicino a te te lo faccio capire Sì ma andiamo Qua c'è il falò Ah buono 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 Oddio Qua c'è un baule C'è la safe però C'è la prossima safe Ok Ah c'è gente là sopra Fermo 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 Non ci andare Dobbiamo andare in safe Non ci sperare E' chi ci risse Aspetta Una volta l'ho preso C'è la safe Ma dietro ti devo Lo capisci Sì Sì C'è gente Ma scappa Minchia è qua sopra Stiamo portando quello da prezzo Ah quello da prezzo Stiamo portando Mi sono portando Ah Che Stai scavattato Scappa 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 Aiuto L'affanculo Ci vede il mio culo Aiuto E come ti aiuto Che sono caduto per terra No no Non devo Tranquillo Ma ti finisco Su Vai corri nudo Cuori Eh Aspettate Sto per morire E sono morto E non ci posso fare nulla Gabri Io non manco Cura di vita Ma ecco Vita snella L'acqua elimina snella Poi fai la scivolata Aspetta Gabri Scegli e Cambus Ti aspetto Ok 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 Mastica Bia Ok 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 Ma no che urlata che ha fatto L'hai visto che urlata che ha fatto Ha fatto mamma mamma Ma vuoi? Non ti sembra, ha urlato affatto Ma no, ne va, oddio Ti ricorda che io non l'avevo accesso Qua ti posso urlare Oddio Scusami ma sta guardando la mappa Buono Aspetta me lo faccio Ok Let's go Ma vuoi? C'è cosa? No niente Oh c'è l'elicottero Ma L'hai visto? C'è l'elicottero No Aspetta Forse non andremo a curarti No 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 C'è l'elicottero Che bello L'ho visto soundedroso Eso No 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 mercado Bittu Purtu Purtu Chet mi sono una propria che cazzo non so dove mettermi e niente aspetta propria la propria stava amarendo la propria però parloci pure il tuo contabile a poi quando ti scade la sabba che faccio la rinnovo no se puoi vabbè tu la sai fare da sola tipo per esempio no ma mia mamma non vuole vabbè in caso se mi fai google play me lo dai a me e me lo faccio nel mio telefono aspetta 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 se lo faccio io sono forse pro player ludovico retro pro player nabbi snapperoni snapperoni nabbi snapperoni quindi qua stiamo vicini nabbi non gelondonare per favore qua sono fornato aspetta che sto prendendo oh dai dai chiediamoci chiediamoci e io devo andare in quella cassa io ho messo i colpi perché sono una propria trovo una spada laser vai facciamo i problemi oh è bt saver guarda oh clicca il tasso per mirare vieni qua andiamo a pushar siamo definiti ho fatto ahhh bastardi ma possiamo giocare adesso si ora glielo scrivo aiaiai io già andavo da poco ma non ci posso mangiare arrivo oh aveva sparata creativo io no ah eh 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 la testa Ora non scrivi più, ora non scrivi più, mentino, da lì, non vai a pittare una questione, bravo il po'. Gabriele, te lo dico io quando lo puoi aggiungare. Ti aggiungo, non ci succarei. Che sonata! Che è un'unomata? Che è una senso d'astaia, mamma mia. Che è un'unomata? Che è un'unomata? Che non era la vita, lei era 44. Bravo gli hai fatto, aveva lo spunto e adesso, quindi vuol dire che aveva? Dicelo, dice lui. Che schieno ci mettiamo? Non andiamo Aspetta minchia Devo vedere se Ah non si vede un cazzo Come al solito Italia questa Vediamo come si mette Stanno Sta dormendo Con l'ama Te lo ricordi Sto skin Si C'ha di resistire Minchia drift Questa è la skin Più rara del gioco No non è più rara del gioco Capito Ho fame Sono andato a prendere qualcos'altro Un kind è buono Ci mettiamo i parenti Della caramella Della caramella C'è Sì Un'altra cosa? a tutti Grazie. 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 Ludo. Eccomi. Ludo una cosa puoi mettere la skin quella di mid femmina così facciamo gli stili tutti e due uguali. Sì ma non mi piace a me quella. Eh beh era per fare gli stili tutte e due. Eh ma non... Dai. A meno così entriamo così il lobby poi a Davide. Penso penso che ce l'avrei salvato. Sì ma non mi piace a me. Anche lo stile senza colore e acciaio. Eh ma aspetta. Sì. 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 Minchia però vabbè. Sì. 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 rimosso il davide io la rimossa ma cosa aveva detto la schiena questo con questa schiena mia la skin tu non lo so sinceramente perché non l'ho fatto ce l'hai pure vero no c'è questo non ce l'ho purtroppo che bordello e volevo mettere la schiena e vuole allagavamo in tutte e due insieme vediamo se ce l'ho salvati tipo dai preferiti orati a spietta migliori scatti invito no no da orazio grazie qua il capo la bella simile mi faceva impossibile inviare il mio ragazzo e gare 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 tu sei l'idea io sono l'idea non lo so bene mettiamo mettiamo del tutto costruzioni va un po secco del nostro senza costruzioni e facciamo una vostra e dove c'è io sono da mossa e tastiera quindi se faccio scritto è per quali perché non da pad lo do capri 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 che c'è sei morto no allora parte non sono da parte perché volevo provare a giurare la mossa e tastiera allora è la nostra speciale ma noi ce l'avevi tipo il coso si chiama lo zainetto con la sua quella vecchia stagione rimane di sky di quella scusa ma io non l'ho messo lo vediamo e non sto giocando il nostro tempo giocando ma che piccola in grado stanghi ronde in chiamata io voglio ragazzi da orazio quando l'ho da ora sì perché non lo sapeva oppure l'ha trovata la trovate su instagram come circa come in che senso l'hai cercata su whatsapp o come come che logica si è sfondata su whatsapp su whatsapp come affatto anche se anche se di paterno però ci sono lo stesso a condenditi che vado a me e scusa mai trovare che provano con la macchina e non ce l'hai la macchina è portata alla macchina e portata alla macchina gli asti senti mezzitrici ora se ho l'hai portata alla macchina e chiedi come c'è l'intraduttore che fa così che c'è sbella gabriele fa gabriele no 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 andiamo al gioco sbegni tutti si è vero scegna modini cosa amo? cosa ci andiamo? cosa ci andiamo? cosa ci andiamo? dimmi oh e basta questo amo mi facessi bene la nonna amo un gas oh lo dico amo un gas ti preoccupa vai amo 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 alla playa oh oh e c'è gente da me oh oh ma più chiaro è l'armi è un botto motorazio oh 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 ma guarda io immazzo immazzo tutto ora dobbiamo fare a svegli c'è con gioca 90 ho vinto con gioca 90 c'è stato un momento di ora abbiamo vinto con gioca 90 ecco ha detto di merda muovono tutti i vari no perché quello l'ho battuto ora vengo è distraucito è distraucito non preoccupare perché qua c'è il fucile laser si ma mi fa per favore ecco lo stia colando veramente mi sta colando gabriere buon e chiuso a te ma 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 te minghè tu 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 dai salviamolo salviamo orazio ora sono da pad gua e ti bigliu e ti bigliu mega bide e ti scemo tutti e di tazzesero vai ti ho messo nella sala operatoria non ti ho messo nella sala operatoria è la sala operatoria daliia l'ho messo qua nei cuscini nei cuscini con me il pescetto esce dai cedro pezzo male toccato vieni qua finchia uscogliare a spada dalla barina si si buona grazie il paese di Gabriele te l'ha toluto con con la amipitantata abbiamo dei fili che non lo sapevi già subito si già subito non ci credo 13 perché avete fatti i figli ne abbiamo tre in realtà ne abbiamo tre non non due non è possibile già che avete fatto io mi chiedevo tutti i migliori i migliori soprattutto creerò grazie a Gabriele chi è cocco bello scrocco festo ma non munizioni del coso del miglio si chiama wow e facciamo vieni qua vieni qua non è vero Gabriele di poter fare tu cosa perché non ti credo è possibile che non ci credo come chiamata jasmine jennifer poi gas no ora abbiamo potente abbiamo una femmina e dei maschi potremmo stanno sparando mi sparano 8 ehi mela 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 su ehi mela ehi mela ehi mela ehi ehi mela ehi mela po' bostia ehi mela ehi mela ehi mela ehi mela o ti vai cinesi lo posso tagliare Spondolo con me e funci, spondolo! Ma non lo so... Spondolo con me e funci! Ah, ma gli apro la cazza! Vinga, beh, lo metti! Mi so fatto la vita, lo metti! Mi so fatto la vita, lo metti! Mi so fatto la vita, lo metti! Mi sa che è luto, la dobbiamo fare! Ma vaga, mi sa che è luto, evviva! Fica, c'è la frutta, c'è! Se ti piace la frutta, mangia la tutta! Amo! 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 È un amore, la chiamante principessa! Ti fai solo su pisello! luto luto c'è la vecchia foto della rosa da guarda queste sono le vecchie stagioni io c'ho i vecchi video su youtube e c'è vecchi video su youtube i più belli video di gabriele quando c'era quella cosa della braccia la vita reale non sono buppo mi piacciono le temi comunque i miei video ci fanno ridere su tiktok aiuto aiuto andiamo ammattiamo le dotte sti con 9 eh andiamo da luto andiamo da costa da oraccia dai ritorniamo il lobby vabbè infatti rispetto da città mi sta invitando città trattate l'ho rimandata la richiesta di città davide ma sono macchetta città gabriele davide ah gabry mhm invitato mi sa davide per entrare luto Ti ha invitato Davide Ti ha invitato Gabriele Ciao Ciao ma come mai non riuscivi ad entrare Ma non lo so Ma sei baccato Non te la sei comprata la schiena di Bandavision Scarlet Witch Eeeh no solo Dr. Strange Non è troppo male l'azio No stavamo giocando prima Ah sitami Ma ci riuscisse che è pop No Ma ancora è convinto Dice che ha figli Non ci credo io Non ci credo Da Ruyonna che dica si fanno Ah Ah e poi di Badello Sua ragazza Ma forse ha figli La sua ragazza No 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 Sì io non ci credo Che già fatto figlio Ora oraccio vi vede una pare e bere non ci pensare Ma lui ma lui da come mai non va Ludo ci sei? Io qua Ah ok Niente patinando ero andato a firmare prima per questo Bade quando hai detto sto andando a firmare lo sai lo sai di solito chi dice sto andando a firmare quando tu fai un reato che magari tipo ti arrestano Ah la polizia sì E poi ti lasciano andare tipo con la condizionale no? Tipo per un mese due mesi dipende poi quello che hai fatto devi andare a firmare in questo giorno ogni giorno E' tipo quando ti lasciano con la condizionale ho pensato ma non è che Gabriele come dice qualche rapina ma ci sono sempre al caso come cazzo faccio nella rapina a casa mia C'è qualche rapina che ci pareva che era che mi stop Si pareva che era in GTA e RP E ci gioco certe volte GTA e RP La fine No sei sempre là Qua qua Pluto sai cosa fare vieni da noi Fa Pluto ho compito in classe Fascista oggi non c'è andato oggi oggi non ci ha già avuto con me da tusca studio sgravità no ma perché a parte che non l'hanno fatto e poi eri mi lasciano cuore uno di panze migliori e mi fa male la testa ma la pancia e mi lasciano i gianci come una porca letteralmente perché le gianci che avevi che avevi no ma troppo troppo male non ce la voglio più è restato a casa ha visto la live di georgia abbiamo giocato con lei e ora ci si è unito dopo perché ora ci gira con georgia se lo seguite ma anche qualche volta mi devo seguire la live di georgia appena entrò c'è fare fare una mala con basta chi c'è dire c'è di assi messi in mezzo sì ma lei di banna si svede le parole offensive vabbè io c'è un bezzo di cazzo poi sui sugi comunque io ho detto a georgia ma perché un giochino 4 con davide ci facebbe piacere ma io se lei banna le parole offensive come non ci può carico no la mattina insira si era un po vabbè ma te la natura è che ci sono le cose che sono basta da sedia si gira la fine a voi senti scadone la faccio io la la sub mai mai la faccio l'orealato con barolazzo è morta a ludo io non mi ricordo quando ci andavo a destra con mister io ce lo vuoi dire a davide perché 3 1 2 3 è scemonito perché giorgi lui ci vuole andare cavolo ed è scemonito che chi è giorgi ci va il 5 ed eccessi fici 1 2 e 3 immagino che cinque la domenica no sì sì 5 e 2 e 2 ci vado la lancio al mondo video piccole di giovedì e benedì che palle non ci sono i ciolevo ieri vabbè poi ci mettiamo in voi non è così io parte 28 davide non c'erano a settembre il 28 di che mese di maggio sono c'è una storia c'è un piccolo c'è ora c'è ora c'è ora c'è ora c'è ora c'è lo sapevo su ma io non sto capendo ammazza ora c'è sta volando fabbio marano mica perdiamo un pro play a giugno non c'è un pro play a a giugno io faccio il compleanno 29 di giugno l'estate che mi regali ma c'è il mio il compleanno che cazzo di ora per il tuo compagno mi deve regalare scusa non prendi un sacco di soldi per il tuo compleanno 100 sub regala le no ma quali danno i soldi a poi mi fa qualcuno mi fa la sta volando e trova direi me la faccio io no a reali cilidu una bar gabriele meri a bobine brule no è morto maschietta lo avevo mi ha ammazzato una schiena di orari una cichina d'aiuto ti sto cerco di restarti ma mi sa che è bianca cazzo cazzo ci sono passi già e bianca la tua skin ma dove cazzo di sparano perché oggi non riesco a vedere dove cazzo di sparano oggi non riesco a vedere da dove minchia mi sparano è pazzesco ci vuole il terzo occhio avendo a mente possiamo fare un altro gioco bastanti minchia dove stai mettendo io vado vediamo può assicurare gabriele k ma non vi regalò ci non siamo morti ma tutti gli sti direttamente no no vabbè signor vicino un vero ma cura gabriele vengo pare oggi il compito in classe ho preso 3 si muore bello sceppo si comunque io alluto stavamo giocando prima un po un conflitto a guardate ragazzi e come dicevo io ora ci dice i figli c'era la mia ragazza ma che cazzo pure i miei sono pure i miei o camorati ma è la ragazza di qualcun altro è capace che gli sta fanno dei figli sì mi chiamo a una già io mi aiuta aspetta e prendo la scheda david si buone ma come l'inglese è difficile a parlare con mia hi my name is by you english oh ieri ieri abbiamo fatto e le prove in inglese erano una cacata pazzesca erano facili erano facilissime c'erano i miei compagni simone simone magari 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 ludovica che aveva 11 anni dici che sono le mie amiche in pratica se tu non ne sapevi le cose potevi anche non metterle ci stava dicendo tutti i cosi upi chissà non che non mettevano niente carosi ma poi come si fa a non sapere l'inglese nel 2022 praticamente ormai nel vocabolario italiano si parla che o sei inglesi per esempio giocate giocate a fortnite allora io ho chillato ho arrestato ho droppato ho fai dato su tutti i parole prese dall'inglese ora sei vivo grazie ho finito ma dai simone the pen is on the table mi che sembrava la propria strada si ma la mia schiena ma già non si viva no aspetta mi chiamo ne sono accorto a testo che siamo con le bim c'è gente qua mi sa guarda sono tutti quattro due tre ore non si può farsa vita cambiala fante casca do tempio è possibile come mangiare la pizza e 5 di pomeriggio ma porca buttano soldato un amico soldato vado a me c'è tutto magari cristiani euro magari cristiani e capisco cristiani orazio zombie comunque alla mamma di lode una volta la vista era nella macchina e io mangio pane scordato è la cosa che mi ha fatto la foto con flash ma non vavo se vuoi resisti 258 e ora di stock solo che non me la ricordo scopo soprattutto in passato ogni volta canisceva mi filmavano 200 cristiani quindi non è che mi ricordo che mi sono fatto la foto era vicino a castellossino ad andare oggi e c'è un bar e video ma se voi manda me la meglio lo manda davide mi chiamiamo la registrata ma chiediti torchio poi li vediamo stasera 9 fuori perché io ieri sera sono 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 c'era e c'è gente il sogno dove c'è spuglia mia ma 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 me la no 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 tranquillo tranquillo abbiamo giocato anche il gta mangi e torna un po di lattuga mentre che c'è vabbè dai chat volete vedere i tiktok di gabriele o non ci tenete tanto ora c'è sembra che scrive ovvio sicuro mi è già già a vederci avanti un altro quel verme ma c'è qualcuno che si guarda ancora avanti in atto a lui non me le sto mai lettera me è un caso umano e luseppe all'idea non gli piace la voce di sabba è voluto da fila no avete c'è un timore ciascuglio e chi mi pare che ha fatto 130 infatti anch'io ci penso sempre sarai che il tuo apparendo di alcun corpo mi levano tutti i cosi ma sai perché perché senza video c'è lo scuola vincecchino dai da non avevo manco l'occhi picchiati che c'è pure la ma spara una t non c'è la nave don dritto o dristo signor cuno di vita ti rendi con e andai con la casa alla programma ecco andiamo ma entra in quella casa se c'è qualcosa c'è la 6 signora di big vada vedo la del medico bella skin questa ma gente voglio fare una regione una regione e di che tocca e cos'è una regione di azione una reazione vorrei riscrivere reazione sono donati i lobby aria capiele io ritorno sembra una robbie per vedere se la scuola cosa qualche cosa non mi fa fare manca nulla gabriele sta muovendo male a sta muovendo male rimane in peggio caro se non mi fanno aspetta faccio così vedi che ci rivedo il live di a bella skin gabriele e polaretti no l'ho capito dopo simone l'ho capito tranquilli gabriele ma quando riuscito metti pronto posso riballare ma pensavo che avevo messo pronto non me ne ha raccolto vedevo pronto da te e mi sono confuso vabbè sì sì un po con dondoro oggi sin dondoro oggi oggi più delle altre volte dai dai che contento con la chitaria qualche altro balletto ma c'è il balletto che non ti accattassi gabriele tutti ne ho 28 ne ho 28 c'è il tamburello c'ho 28 piccaso c'è il pinguino pingoo 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 in siciliano in catenese non mi vuoi non dò l'occhio schifo di famiglia vabbè ci sono ancora ma sono altri doppiace mossa segreta dei dandogun gabriele vuoi fare vittoria sicuro ma non c'è abbiare pomo ramus si però andiamo ora pingoo 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 johnson johnson johnsina va bene se facciamo vittoria blocchia ora va bene e come faccio bloccando che ma ratz hai capito raggio se facciamo vittoria reale capire tipo quindi con le mani lo devo struttare su tutto su tutto ma ma quando mi fa niente a fare il capo di fanne però lo devi fare facciamo vittorio sennò anni fa c'è morisci prima io non mi chiamo poi continuamente con le chiamate è un blocchio ma verità avventando ciò truccare che blocco le chiamate la devi scaricare pure due tali truccare non chiamati mai online no te le disattiva truccando quale parte io già ce l'ho non hai capito sono ammazzato parca butta a spada viola come ammazzate era meglio ma perché siamo scesi qua vabbè lo vuoi dire non si prende definiamo fabio vedi dopo che detto dobbiamo fare la vittoria reale ciao ciao è infatti davide verità venga tutti è rimasta luto no simone già l'ho già l'ho fatto un gameplay su apex tempo fa un annetto fa tutto pure ne tra le che su con belli ma ammazzano da ludovico da spada las sta parendo per dire il ritorno dello jade da dare un copro problema un copro problema e mio fratello lo chiami suca suca la picchia cat e genica dalla varo google ignorati c'è ma star no caro si stava giocando da mosse tastiera chi si fa ci sono a finire i minici e vi chiesto giovanna da mosse tastiera di cc no e ma se passi era come l'hanno regalata nella playstation si può mettere la mosse tastiera ah mica non lo sapevo pazzesco che ci sono i cosi ma ti viene meglio con mosse tastiera supporta sto provando adesso vediamo come mi ci trova per ora nella mira no però i tasti sono bene o male c'è un marco che sta dicendo un betto ha fatto 18 anni sempre 18 anni fa lo dice a tutti ormai anche se non ho 18 anni ma in che lei beh ora ci secondo me c'è giorgi 90 collegato no no ecca ecca ciao c'è la caramella bastarda che cazzo fa mi strozza di strozzo a scalini dobbiamo andare vai vai tutti a scalini occhio che c'è gente perché a casa viettano tutte ma secondo me l'ho passato dobbiamo fare senza abito casi una sensibilità cielo bassa ma da mosse tastiera me la ritrovo sempre alta altissima ma è giocato con mouse tastiera io la oggi ma non se passi al piccolo c'è non dipende quale gioco giochi ma la tastiera ma la tastiera io magari che punta e clicca vabbè di può raccontare un controllo della pista 5 no si può stare nel pc perché se io c'ho il controller di l'xbox one è troppo buono che cazzo qua l'uomo blu come godo ma tipo oltre altri giochi che giochiamo tutti insieme cosa potremmo fare niente niente nessuno ma che cazzo scusa mi intendo ma tu non c'hai coso ah ma c'è un caramato e for me so for macchia mia human for flat si è bello l'hai provato? human for? flat all flat l'hai mai provato? no ma che c'è quello? quello c'è? eh il gioco di popol guys ma acceli è vero più bello io mi diverto ogni volta con l'ulti gioco ma passaggio passaggio sono con caramato minchia l'utore trova il sottotiro ma senza build non c'era nessuno qua dove andiamo ragazzi? che facciamo? pushiamo o stiamo qua? ehm su 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 aggressive 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 un nuovo bipida minchia fabbio marano ti facessi scoppiare come un minicino minchia l'utore minchia l'utore ma ti faccio scoppiare eeeh sii cazzo c'è uno col caramato qui eeeh spinendo tutti i pali vai metti senza build ma eeeh forse è meglio perché trovate il boss come ora perché almeno dura più a lungo o bit la taglia come pitta sta facendo la torre di babbele spregati però vogliamo non è l'obbio fa di nessuno è la sui cristiani